Sono preoccupato non per la partita in sé, ma perché oggi non c'è sta manco la scusa del pranzo, perché se mangia dopo, di conseguenza il signorino sta qua dall'inizio, io non so quello che devo dire per paura di portare sfighe o cose varie. Non dire niente, non dico assolutamente nulla, di conseguenza Roma-Inter per noi ma anche per loro è una partita importantissima, voi già sapete come è andata a finire, questa è una nuova live reaction, diamo immediatamente il via alla sigla, tu la conosci quella sigla? È una sigla che voi non potete, questa vincerà tutti i premi del 2021, ha già sfondato i premi del 2020, continuiamo a riproporla, ce vediamo dopo, anzi tra pochissimo, vai. Fatta la cacca il culo si sciacqua, bidibibodibide, dai lavati il culo anche tu come me, bidibibodibide. Se volete restare aggiornati sulla vostra squadra del cuore e non solo, c'è un modo completamente gratuito per farlo, vi basterà passare sul link in descrizione e andare a scaricare OneFootball, la migliore applicazione per seguire tutto, e dico tutto, il mondo del calcio. Applicazione appunto completamente gratuita per iOS e Android, notizie statistiche, curiosità, indiscrezioni dei calciomercato, bombe dei calciomercato, ufficialità e chi più ne metta, scaricatela, perché siamo sicuri che non ve ne pentirete. Dai, 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 dai. Non dico niente, dai che ci comincio. Dai, 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 mamma mia, a momenti la vediamo. Abbiamo sfruttato la stazione, non so. Ma che sfrutta. Dai che buona Cass. Mamma mia, regà. Buona, buona. Mamma mia, questi sono matti comunque, eh. Questi sono pazzi. No, hai forzato un passaggio facile. No, hai forzato un passaggio facile. Eh? No. Fuori gioco? Era fuori... Ah no, angolo. Portacci. Ma hai visto che è arrivato? No, era buona. Ma hai visto che è arrivato? Ma, mamma che è arrivato. Regà, questo è miracolo. Mamma mia, che gli ha arrivato. Ragazzi, questo è un miracolo. Ragazzi, questo è un miracolo. Mamma mia, come gliel'ha levata. Cioè, ha messo la mano all'ultimo. Ci sono queste le occasioni da cui dobbiamo stare più attenti, perché loro in queste situazioni sono bravi. Eh, ma questi sono fisici, è normale, Venteburga. No! Ma che la c***o fai? Lo fanno. Mamma mia, spalling. Comunque se... Regà, gioca. Regà, sti errori no, regà, sti errori no. Cioè, sono vergognosi sti errori. Cioè, ha fatto un miracolo se stava a spreca tutto quanto, eh, con quella cazzata. Vergognosi sti errori, eh. Eh. Meno male. Rispiriamo un attimo. Dai, forza. Che con due minuti ci stavano quasi a purgà. In due occasioni diverse. Bravo Jordan, mamma mia. Ma senza fa fallo. Fallo, fallo, fallo. Tira da là! Reggola! Ah! 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 Dagliela, rezzo! Dai! Dai! Dagliela, re! Dai! Ma aspettavo fosse fuori! E' questa la negliata, però, ecco perché. Vabbè, non ce ne frega niente. E' questa la negliata? Andava fuori! L'avevo visto bene, guarda bene. Eccola la deviazione! L'avevo visto che aveva preso un giro strano, ma va bene così! Dai, è 1-0, regà! Ma va bene così! Oh, du, con se palle, però. Mamma mia, davvero. Porca tr*****a. Fortuna che è spagnolo che con i ghidi dovrebbe essere un fenomeno. Bravo! Bravo! No, 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 no! Mamma mia! Mamma mia. Bravo, Aitin, mamma mia, Aitin. Vai, Michi! Si è aperto tutto, si è aperto tutto. Mamma mia, regà, mamma mia, regà. Si è aperto tutto, oh. Mamma mia, regà. Questi, non che faccia attenzione, appena te ripartano. Mamma mia, guarda, oh. Per fortuna l'ha presa male. Ma lo spreca energie, va bene essere aggressivi, però. Proca, proca pressione ci deve stare. Si, si, però, veri tu, cioè, c'è un trattore. Lo sai come. Sprega, sprega fiato. No! Oh! Non è fuori gioco. Vi dovete ferm... Non vi dovete fermare. Aspetta, aspetta, non è fuori gioco. Fuori gioco. Devo non rivedere, però. Non vi dovete fermare. Non vi dovete fermare. Cazzo. È fuori gioco, e vabbè, però non vi dovete fermare. Cioè, a me mi dà fastidio, st'atteggiamento, che se fermano per chiamare fuori gioco. E se non è fuori gioco, che fai? Butta, bravo. Putta via. Putta via. Dal lancio hai pensato forte. No, sì. Cioè, bucano il pallone per quanto odi di forte. Sta a dormire, ma rotta, che ha fatto? La cazzo da mascherina, ma che stava messa a fare? Oddio, un'altra volta al naso, cioè, Pellegrì. Te rompi il naso una volta a settimana. Ma che mi c'è un po' l'acqua? Eh, certo. Che, non hai capito? Segnato come chiede. Cinque golle. Vabbè, quello, io mi aspettavo quello, eh. A sto punto della stagione, quattro, cinque golle, gli evitavo. Ah no, ancora prima. Pipì e pupù. La combo perfetta. Te, ti forro. Far, far, far. Dobbiamo sfruttarla a sto occasione. Eh no, ha recuperato. Dobbiamo sfruttarla a sto occasione, Giorno. No! Non l'ha visto, non l'ha visto. È andata a memoria. Non gli uscite così, non gli uscite così, ma come fate? Nessuno l'ha fatto. Ma mamma! Mamma! Non gli dovete uscire così, però... Angolo. Ma gli hanno angolo. Porco d***** lo sapevo. Porco d***** lo sapevo su un angolo che non c'è stava. Ma non se può! Non se può! Ma come fa a cuore così questo? Eccolo, eccolo! Attenti, guarda lo spazio là in mezzo. Guarda lo spazio là in mezzo. La squadra ha una Roma completamente diversa. Come sempre comunque, oh. Una Roma completamente diversa da quella del primo tempo. Come sempre. Eh, io capisco che pure loro sono entrati con la bava alla bocca. Ma non è come si ritolà così, eh? Esatto. Guarda, 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 completamente... Guarda, guarda, barella solo in mezzo. Porca... Ma non è... Ma non puoi! Non puoi ogni volta fa queste cose! Prima te... S*****, sempre così! Non ce la posso fare, oh... Non è così. Sempre così! Cioè, è bastato un quarto d'ora all'Inter per mettere sotto... Un quarto d'ora! La sta a perdere tu la partita! La sta a perdere tu, la sta a perdere! È bastato un quarto d'ora, basta! Fino tutto! Da solo! Per fortuna che è... Che è un disperato! Ma guarda, completamente... Dai però! Disuniti nei reparti, fa! È un'altra squadra! Ma lo vedi? È un'altra squadra! Che c***o! Cioè, ma si possono vedere queste cose? Ma i gambi dove c***o stanno? È allegri? È buono? E fallo con... Ma guarda che c***o! Prova c***o! Ma dove va questo? Ma dove va questo? C***o! Mamma mia, oh! La c***o le ha tirato! Cioè, io mi facevo partire pure il piede, mi facevo partire! Marco angolata, oh! Pure mezza centrale! Ma con il sinistro in mezzo, oh! Ma che è sto schifo di p***o? E lo... Da! 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 ・sî! Da! Sììììììììì! Dai! Sìììììì! Sììììììììì! Sììììììì! Sììììììì! Guarda io! Guarda borda! Il Mortaccio l'e aveva messo tre ore! Ma falla finì stazione di mortacci tua